Tre anziani amici, trovano il modo di fare il bagno in segreto in una lussuosa piscina vicino alla loro casa di riposo. Un giorno incontrano quattro extraterrestri, tra cui la bella Kitty. Jack, un comandante di barche, si innamora di Kitty, ma si rende conto che c'è qualcosa di strano nei pacchi che portano sulla barca, dei bozzoli giganti che, quando depositati nella piscina, conferiscono ai tre anziani la giovinezza e la salute. Scoprono che i cugini sono extraterrestri provenienti da un pianeta senza malattie, guerre o mortalità e che il loro obiettivo sulla Terra è recuperare i bozzoli contenenti i loro amici che erano stati sepolti nelle profondità marine dell'Atlantide diecimila anni prima. Gli ospiti della casa di riposo accorrono a tuffarvisi, depauperando l'acqua dell'energia necessaria per nutrire i bozzoli. Gli alieni sono costretti a riportare i bozzoli in mare, ma il capo degli extraterrestri stringe un rapporto di amicizia con gli umani e offre loro la possibilità di partire per il loro pianeta dove diventeranno immortali. I tre anziani, le loro compagne e alcuni amici della casa di riposo accettano e partono, lasciando solo il nipote di Ben, David, deluso. Iscriviti anche tu al canale. Grazie. Grazie.